Gianni Dotti, ben trovato. Pedagogista, un incarico all'Università Cattolica, fondatore di una rete di cooperazione sociale, presidente e amministratore delegato di Welfare Italia che è dedicato allo sviluppo dei servizi per le famiglie, questo cita la bio e adesso dimmi cos'è. Welfare Italia è l'ultima iniziativa che insieme ad altri abbiamo montato, l'ho lasciata da qualche anno, da poco perché sono abbastanza abituato così, quando le cose poi prendono il loro corpo è tempo di salutarle perché camminino da sole. Adesso sono amministratore delegato da pochissimo di una nuova impresa sociale che si chiama ON, che abbiamo costituito con alcuni amici, che vorrebbe riportare dentro gli oratori italiani il tema del lavoro in maniera seria. Io dico che devono tornare ad essere un luogo di congregazione, cioè del rimettersi insieme a fronte di una comunanza e di una simpatia reciproca che va al di là del fare delle cose, del passare il tempo, ma del ritrovare un senso al tempo. Cosa volete fare con gli oratori? A me piacerebbe, la dico un po' provocatoriamente, costruire delle esperienze imprenditoriali a partire dalla terza media, che è sempre stata l'esperienza sia di San Filippo Neri che di San Giovanni Bosco, cioè l'idea tipica italiana del tenere insieme testa, cuore, mani e esperienza di sé, comunanza, rischio, ma anche vicinanza con adulti che si prendono cura di te, ma anche esposizione, responsabilità, esattamente il contrario di dove va invece la società con i giovani. Il contrario di quelli che dicono che i ragazzi bisogna procrastinare il tempo solo dello studio fino ormai all'interno? Ecco, io questo lo trovo anche proprio da pedagogista una vera follia educativa, perché l'uomo incarna, cioè fa proprio nella propria carne le cose fondamentali della vita esattamente tra i 12 e i 16 anni. Addirittura così piccolo? Nel momento in cui si risveglia la vita, la maturità sessuale comporta una sorta di uscita da sé talmente forte che se non è accompagnata da valore uno centrifuga oppure viene soffocato. Noi invece abbiamo proprio spostato questa idea e uno allora entrerà nel mondo del lavoro a 25, 30 anni. Io non sono contro lo studio, ma lo studio se non è applicato all'esperienza di sé nella realtà rischia di essere pura astrazione. Che cosa vuol dire welfare, Gianni Dotti? Welfare oggi è nell'immaginario di tutti una sorta di sovrastruttura tecnica fatta di servizi. Il welfare è stato nel Novecento una geniale invenzione politica dell'Europa che ha cercato di costruire le condizioni per cui si tenesse insieme libertà ed equità. Sostanzialmente è stata la via europea per non sfondare verso un liberismo sfrenato e dall'altra parte per non finire in un comunismo soffocante. Quindi è stata un'intuizione politica. Nel tempo via via è diventata una struttura di servizi e un bacino di denaro considerevole nei bilanci di ogni Stato. Questo è il punto. Noi oggi dobbiamo recuperare quel punto originario, tra l'altro tipico poi nella nostra storia europea è stata anche di cristiani che sono stati capaci di creare ospedali, banche, le prime scuole, cooperative. Cioè è un gran tempo questo per recuperare questa tradizione dentro questa visione che è anche politica e culturale. Parentesi, la tua è una grande famiglia, hai quattro figli, i due sono in affido, però questa tua famiglia, abbastanza numerosa, è estesa da altre tre famiglie in una sorta di comune cristiana, in una cascina. Perché questa scelta così originale? No, io credo che sia proprio tradizionale. Io sono un grande ortodosso, tutti mi danno dal matto, ma io sostanzialmente sono un povero ortodosso che cerca di vivere quello che ha ascoltato e ha intuito. La famiglia cristiana per me non può non essere aperta, lo è nella dimensione dei figli, nell'immediato, laddove è possibile, ma anche laddove non è possibile, non distingo tra figli biologici e figli in affido, e lo è poi nella dimensione della comunità, del contesto. Cioè nella tradizione cristiana, almeno nei primi 300 anni, ogni famiglia cristiana aveva un letto a disposizione per gli ospiti. L'ospitalità non era istituzionalizzata, non stava dentro qualcuno che era specializzato in un'ospitalità. L'ospitalità è segno di Dio, se non fai l'esperienza dell'ospite è difficile che tu possa fare l'esperienza di Dio. In generale la proprietà privata ci ha resi più egoisti, più soli? Quel che dico è che ci ha reso più soli l'interpretazione che abbiamo dato della proprietà privata. La proprietà privata in sé è una bella cosa, è come il proprio corpo, una sorta di estensione al proprio corpo. Il problema è che il proprio corpo non è un possesso, è un affidamento, è una grazia, un dono, potremmo dirla in tanti modi, ma così come la tua casa ha la possibilità che hai di avere una macchina, un telefono, non è un possesso, è un affidamento e va amministrato bene. In questo senso la proprietà privata non è assoluta, sono mezzi e strumenti che servono a raggiungere un fine, non sono il fine. Più in generale è ancora tempo di una distinzione netta tra pubblico e privato? Mi porti su un terreno che poi mi ha comportato tante gioie e tanti dolori nella vita. Anche questa è una separazione artificiosa, in particolare figlia di un'evoluzione degli ultimi 500 anni del passato millennio, ma l'uomo non è un separato tra pubblico e privato, il pubblico e il privato sono due realtà distinte dell'esperienza di sé, ma lo dicono i pronomi personali, noi abbiamo tre pronomi personali singolari e tre pronomi personali plurali, è sempre persona, la persona è singolare e plurale, ognuno di noi fa dentro di sé l'esperienza del singolare, cioè del privato e del plurale, cioè del pubblico. Non è possibile che le forme politiche e economiche abbiano completamente saltato questa antropologia e siano andate verso una visione così separata della vita. Per me ad esempio tra il pubblico e il privato c'è il comune, ciò che sta in comune tra noi. E il terzo settore? Siamo ancorati ancora dei vecchi modelli sociali, per cui dobbiamo classificare e separare, anche il nuovo, anche ciò che dovrebbe unire diventa una parte? È così, è figlio del Novecento, poi io sono contento che siamo comunque arrivati a una legge quadro, però è chiaro che bisogna andare oltre, il punto è questa riconnessione di ciò che abbiamo separato, allora questa ipotesi di ciò che ci accomuna non è tipica solo di una forma giuridica, deve essere tipica di ogni tendenza umana a costruire il valore, allora tu il valore puoi immaginare di costruirlo separandoti dal resto, puoi immaginare di costruirlo unendo il resto, ma qui andremo lontani, la differenza tra diabolico e simbolico. Ah, il diavolo divide? Simbolo e diavolo hanno la stessa matrice, diaballo e simballo, noi veniamo da una fase diabolica, separativa. Siamo andati in filosofia oppure stiamo parlando di cose che riguardano la vita e che fanno parte di un'esperienza che dovremmo recuperare? No, stiamo parlando di cose della vita, io ho questa fortuna o sfortuna di essere bergamasco e quindi di essere concreto, dove la parola concreto vuol dire tenere insieme le cose, non vuol dire essere dei materialotti, concreto e cattolico sono due cose che vanno abbastanza insieme, delle matrici etimologiche simili. L'esempio concreto del simbolo, aver separato totalmente l'esperienza della scuola dall'esperienza del lavoro, io credo che sia un'operazione diabolica, non un'operazione simbolica. Trovare luoghi e momenti in cui le persone possano ritrovare questa esperienza di sé, che poi è un'esperienza di conoscenza, conoscere vuol dire nascere con le cose, questo è conoscere e fare l'esperienza di concreare, questa non la fai solo col cervello, non la fai solo con le mani, non la fai solo col cuore, devi farla con il cuore, le mani e il cervello. Senti, tu ti occupi di sociale fin da quando sei ragazzino e non per motivi ideologici, per cosa? Ma guarda, questa è una domanda che mi hanno fatto spesso, io penso che da una parte lo devo alle esperienze che ho fatto con il mio papà e la mia mamma, perché tutte e due erano di grandi famiglie e io probabilmente ho portato nel cuore il fatto che quando ci si trovava erano dieci fratelli della mia mamma, i sei fratelli del mio papà, tutti i cugini, quindi questo senso della comunanza è stato probabilmente forte, la seconda probabilmente lo devo al dolore sempre del papà e della mia mamma che sono state di immigranti, io sono nato esattamente nel momento in cui sono rientrati dall'Australian qua e per quello il nome John, perché al 63 John Kennedy… Non era un ghirivizzo. Non è un divertimento da cowboy, no, anzi ti dirò… Però c'hai l'alluro un po', mi ci vedo col capello da texano. I dieci anni è stata dura, capelli rossi, John a Bergamo, era dura, infatti mi tingevo, tentavo di tingermi, la mia nonna con le noci, però ti dicevo che una parte comunque penso di avere questa sofferenza, perché i racconti della mamma in particolare ce li ho, è stata molto dura, i bergamaschi erano i marocchini australiani. Addirittura? Ah beh, il mattrattamento che avevano i cattolici da parte dei protestanti in Australia era pesante, mio padre ha fatto il minatore, la mia mamma faceva la barista in questo posto pazzesco in mezzo al deserto australiano, siamo andati anche a rivederlo prima della morte della mia mamma. Quindi da una parte questa, dall'altra sono stati alcuni incontri per me fondamentali, io ero uno molto selvaggio, vivvamo nella periferia di Bergamo in un paese che si chiamava Seriate e a un certo punto mi ricordo che un prete in bicicletta andavo comunque a messa, facevo il chiarichetto, però poi avevo una vita abbastanza, giravo in bicicletta, giocavo a pallone e un giorno questo prete mi diceva, sai Giovanni devi venire con me e io quel giorno non so perché, sono andato e da lì nella terza media è cominciato così, ha messo insieme probabilmente quelle esperienze della famiglia con questa… Sì, tu a terza media forse in seconda raccoglievi soldi per i terremotati del Friuli, sei un po' cresciuto a Pane, Don Mazzolare e Don Milani. È così, è così, poi questi sono diventati per me dei riferimenti fondamentali, non so come si fa oggi un quattordicenne o un quindicenne che legge Don Mazzolare, però per me era fondamentale, cioè ritrovavo in quella storia, in quei racconti, in quel modo di sentire la vita, ecco io la sentivo molto molto vicino a quello che provavo in quel periodo lì, è stata una specie di vocazione, insomma se si può dare questo termine. È una chiamata e ognuno ha la sua, questo sì, cioè tu poi hai fatto delle scelte che io da madre forse non avrei del tutto condiviso perché parliamo di studio, lavoro, però tu la scuola l'hai lasciata, sei andato a fare il volontario. È andato così, sì, sono finito in un orfanatrofio, ho lasciato il liceo in terza, sono finito in un orfanatrofo, poi ho fatto l'obiettore di coscienza, lì ho ripreso il liceo da privatista, ho fatto tutti gli esami da privatista. Hai capito che avevi fatto male? Certo, certo, ma non consiglio, quello però per me era un'urgenza, dovevo rispondere a un'urgenza interiore. Poi si è andato a vivere con i terremotati in Irpinia. Poi siamo stati molto con i terremotati, sono tutte quelle esperienze, però quasi sempre grandi esperienze di gruppo, tieni conto che noi eravamo una generazione subito dopo il concilio Vaticano II, il 68, quindi quella spinta. Quando si parlava di missionari laici. Era roba seria, poi tu prendevi sul serio le cose, capito? Non è che dicevi, le raccontavi, ma l'esigenza di renderle concrete era proprio una necessità spirituale e proprio quasi fisica. Ricordo allora, era scontato che si facesse l'obiettore di coscienza, come facevamo a non fare l'obiettore di coscienza? Non sapevi dove saresti andato, ma tu dovevi andare. Questo spirito comunque è stato fondamentale per approfondire e anche essere un po' plasmato dalle cose della vita, quindi fare incontri anche con la realtà, non soltanto con le idee, ma con la realtà. Come metti insieme pedagogia e economia? È questa questione del concreto, che tra l'altro per me, da punto di vista pedagogico, in questo senso amo Don Milani. Io non riesco a immaginare una pedagogia come solo pura didattica o momento in cui si spiega agli altri cos'è la vita, come dovrebbe funzionare, che cosa devono sapere. Per me l'educazione è un'esperienza con gli altri di cos'è il valore, in senso esteso. Nel valore c'è anche l'economia. Il tuo tema è il COM, che fa parte di concretezza e fa parte di un termine che usa spesso che è riconnessione, ma non lo riferisce alla rete, l'abbiamo già detto, scuola, lavoro, ma anche centro e periferia, per esempio, anche economia e comunità e socialità, pubblico e privato. Sì, è così. Questo è un tratto che mi riconosco. Io sento proprio questa vocazione di mettere insieme ciò che è stato separato, che probabilmente per ragioni anche giuste ha trovato così delle forme per crescere, ma io sento che oggi quella è una ferita che va risanata, ma anche mettere insieme culture diverse, mettere insieme età della vita diverse, mettere insieme le esperienze teoriche con le esperienze pratiche. Insomma, questo cercare insieme, in fondo per me è la traduzione molto umile del corpo mistico di Cristo. Il COM è anche l'opposto dello scarto, no? Sì, è certo, perché il COM è la consapevolezza della bellezza di se stessi, ma dalla ferita di se stessi. Cioè l'altro non è solo una bella cosa, l'altro in alcuni momenti è una cosa che non vorresti proprio vedere. È una bella rottura di scatole. È una bella rottura di scatole. Ma è esattamente per questo che è l'altro che ti riguarda, è il tuo prossimo. Sai, è facile pensare sempre al prossimo, il bel bambino nero, oppure il bel disabile in carrozzina. L'altro in alcuni momenti non l'avresti mai immaginato. Questo esempio a casa dove noi accogliamo, e non siamo un servizio sociale, ripeto, accogliamo le persone che ci chiedono di venire. E a volte io chiedo a Dio, ma scusa, ma perché mi hai mandato questo? Che è proprio un rompiscatole pazzesco, ideologicamente lontanissimo da me. Però lui è l'ospite, non è l'ospite che ti immagini che sia. È lui l'ospite. È possibile questo rapporto, questo dialogo con tutti? Oppure bisogna comunque essere in due perché un rapporto si creda? No, io credo che bisogna anche tollerare che a volte non è possibile. Cioè di schiaffi nei presi? Tantissimi. Non è che accogliendo tu trovi sempre porte aperte? No, no. Però sai c'è quel bellissimo racconto di San Francesco che lui dice che quando sono andato a bussare al mio convento non mi hanno riconosciuto e mi hanno cacciato via. È proprio in quel momento che c'è la perfetta letizia. Io vivo l'azione come un pellegrinaggio interiore. L'azione per me è una preghiera. In questo senso ogni tanto il fatto di non riuscire sempre a raccogliere i frutti, ogni tanto non vedere crescere nulla, fa parte proprio di questo pellegrinaggio. La tua famiglia è d'accordo con queste scelte? Immagino tua moglie sì, visto che casa l'avete messa su insieme, ma i figli? C'è un'età in cui ci si contrappone? È una bella domanda questa. Questa me lo chiedo anche perché siccome per me la libertà è sacra, non vorrei mai costringere i miei figli alla nostra vita. C'è un tempo in cui comunque un figlio segue il papà e segue la mamma, ma può seguire questa vita, la seguire un'altra. C'è un momento delicato in cui tu puoi avere un'influenza molto pesante sui figli. Allora con Monica questo è un punto particolare. Lo dico, parlo della proprietà privata. Ad esempio con Monica e anche gli altri amici a sua casa. Io non credo che la casa nostra andrà nell'asse ereditario dei miei figli. Va nell'asse ereditario dei miei figli se vorranno vivere così. Altrimenti non va nel loro asse ereditario. Però questo mi impegna a raccogliere le risorse necessarie perché possano andare laddove vogliono andare. Cioè è come dire, per me è questa la responsabilità. Perché io tradirei la nostra storia e tradirei loro se quella casa diventasse semplicemente un valore economico immobiliare e perdesse tutto il valore spirituale, fraterno, culturale, affettivo che ha avuto. Io non voglio nessun contratto con loro. Voglio però che quando sarà il tempo, e loro lo sanno, mi diano la parola. Se decidono altri io sarò comunque il papà più contento nel mondo. perché vuol dire che la vita, Dio, gli altri, le chiamano a fare cose migliori e più belle di queste. C'è anche la possibilità che i figli o le persone che ti sono care facciano scelte peggiori. Ah beh, questo è già avvenuto. Questo è già avvenuto. Questo quando succede è una grande ferita. Dio c'è sempre? C'è lo stesso Dio? Ma io credo che c'è soprattutto lì. Perché il punto vedi è uscire dal nostro io. Questo è il problema, hai capito? E a volte può essere un io che abbiamo imbellettato anche bene, anche di valori. Non cambia niente, è solo un vestito. Uscire da sé è uscire anche dall'idea di sé, dall'idea che hai della vita. E incontrare sempre più la vita. E la vita è esposizione al nuovo, a quello che c'è di nuovo. Gianni Dotti, l'economia nasce in seno alla Chiesa. L'abbiamo detto, le opere di misericordia, le banche, le banche, ma anche gli ospedali, le caritative varie che poi diventano opere a loro volta e imprese. Che cosa si è perso oggi? Parlo della Chiesa. Non direi che l'economia nasce in seno alla Chiesa, direi che una certa interpretazione del valore economico nasce. Assolutamente. C'è tutta una grandissima influenza, ma ne potremmo già trovare prima nei greci, nei romani. E' successo che a un certo punto noi abbiamo completamente delegato, in quella logica pubblico-privato, alle due forme emergenti, quindi lo Stato da una parte e il mercato capitalista dall'altra, il pensiero su queste cose, con qualche spruzzatina cattolica. Allora si dice, la dottrina sociale della Chiesa, oppure sì, fatti capitalisti, però ogni tanto andate a messa o dall'altra parte fate… La sussidiarietà che è diventata un regalo poi, no? Dello Stato. Che è proprio di vedere, c'è esattamente il contrario. E poi io dico sempre, non si può fare sussidiarietà solo con i soldi statali. Cioè bisogna fare sussidiarietà con la capacità auto-organizzativa e poi bisogna discutere con le autorità pubblica e dell'armonia di quelle attività su quel territorio lì, noi siamo diventati molto statalisti da una parte e molto capitalisti dall'altra, cioè la via che si può chiamare economia civile da una pa'altra o democrazia partecipata dall'altra, che sono le forme che hanno sempre innovato la nostra civiltà. Non è un'utopia oggi? No, anzi, se tu pensi che il capitalismo più spinto oggi parla di sharing, valore, condiviso, condivisione. Guarda Facebook, le tre parole fondamentali di Facebook. Ci siamo fatti superare. Amici, condivisione, comunità. Cioè io sono veramente allebito. Che uno si faccia i miliardi, i centinaia di miliardi per se stesso su queste tre parole che stanno alla base della nostra cultura, io lo trovo veramente che il diavolo è un genio. L'impresa è soltanto denaro e la famiglia è un'impresa? No, l'impresa è come si diceva spesso da piccolini, mamma ho fatto un'impresa oggi. Cosa volevi dire quando dicevi così alla mamma? Avevi superato un fosso, avevi trovato una cosa, io avevo costruito una capanna. Cioè fare un'impresa è costruire una storia, io aggiungo costruire una storia con gli altri. Oggi è anche una storia economica, ma economica non vuol dire solo monetaria, vuol dire che tu hai dato ordine, un certo ordine, un ordine giusto, ingiusto, bello, brutto. Una sfida comunque che hai raccolto. E questa è l'impresa, capito? Ma tu pensa nel monopensiero degli ultimi trent'anni, l'impresa è uguale a fare soldi. Ma questo c'entra poco o nulla con l'impresa, quello è speculare, è un'altra roba. Perché se dicevo che anche la famiglia, un insieme di famiglie è un'impresa? Assolutamente, se la intendiamo così io non ho nessun problema a dire che è un'impresa, ma se pensi che alla base del 90% delle piccole imprese italiane c'è una famiglia. Ma perché allo Stato le famiglie non interessano se non come sostituzione di un carente welfare? Ma perché siamo entrati in quell'idea statalista in cui tu avevi un sistema eticamente superiore, questo è Hegel, capito? Hegel, Marx, tutto quel pensiero idealista, fino ad arrivare anche al fascismo. Perché è uguale. Da questo punto di vista il comunismo e il fascismo sono speculari. Le ideologie nascono la stessa piano. Nell'immaginare il pensiero idealista hegeliano, in cui tu hai un ente che è lo Stato che è eticamente superiore a me per persona singola. Io questo non l'ho mai accettato, non lo accetterò mai. Ognuno deve fare la sua parte, esistono sfere e momenti diversi, ma dal punto di vista della responsabilità pubblica io ne sento altrettanta che il Presidente della Repubblica o il Primo Ministro, non c'è nessuna differenza. D'accordissimo, anche perché se lo Stato disgrega gli individui, e oggi trionfa l'individualismo, sono più facilmente manipolabili e dominabili. Te la dico in più, non ci può essere società se non c'è comunità. Il paradosso è questo, ma te la dico in un punto di vista concreto, visto che abito anche a Mazzara del Vallo, parte la mia vita, insieme al mio amico Mauro. Perché il Sud è sempre stato… Siamo proprio ai due opposti. Sì, è il posto più lontano che c'è da Bergamo. Perché il Sud è sempre stata una passione, ho sempre cercato nel mio piccolino di volere bene anche a questo pezzo del paese che è meraviglioso. Ti dicevo questa questione della mafia, lì lo vedi bene. Perché la società è in grande difficoltà al Sud? Perché non c'è la comunità, ma c'è l'immunità. E se tu non coltivi i rapporti di comunità che sono costantemente mettere le persone di fonte alla responsabilità l'uno dell'altro, lasciargli lo spazio di libertà perché costruiscono alcune cose e crea i sistemi di dipendenza e nei sistemi di dipendenza vince l'immunità, cioè il gruppo più forte. Infatti il tema della mafia è perché c'è troppo poca comunità al Sud, capito? In questo senso poi c'è poca società. Sì, ma anche dei nostri figli dominati dalla pubblicità, dalla moda, perché se sei solo sei più portato ad aggregarti a tutte le forme di aggregazione che non ti vogliono bene. No, infatti dall'altra parte è l'individualismo spinto, immunità e individualismo spinto sono esattamente questa chiusura della persona nell'io, prima persona singolare, e nel noi, prima persona plurale. Senti, tu hai scritto un libro, adesso un altro libro, che è appena uscito per le edizioni San Paolo, che si chiama Giuseppe siamo noi. Ora, insomma, uno titana subito, sei cattolico, quindi è chiaro che Giuseppe è San Giuseppe, però voi lo chiamate Youssef perché di fatto è un tipo d'uomo che a voi interessa. Che cosa volevi raccontare attraverso la figura di Giuseppe? Devo dire due cose, è stato scritto con Mario, Don Mario Aldegani, lo dico perché questo è un libro frutto di dieci anni di amicizia, non sarebbe mai uscito un libro così, è perché Mario è generale dei Giuseppini. Allora, tutto nasce, un giorno Mario mi dice, ma senti Gian, facciamo un libro su San Giuseppe e giuro che quando me l'ha detto ho detto, no Mario, San Giuseppe no, anche perché io avevo queste immagini di San Giuseppe molto stereotipata, molto da immagini ottocentesche che ci sono, ad esempio, delle chiese dalle mie parti, molto fredda, molto lì, il solito vecchio col bastone, con questo bambino. Sai, le madonne sono molto più belle, hanno i vestiti, le corone, cambiano, fanno anche solo le loro sfilate, cambiano secondo la madonna, invece San Giuseppe è sempre quella roba… e invece poi leggendo e meditando e pregando sui brani del Vangelo, perché tutto lì è molto ortodosso il libro, è molto ortodosso, abbiamo preso i pezzi di Matteo e i pezzi di Luca, ho scoperto appunto che siamo noi, cioè l'esperienza di San Giuseppe è veramente l'esperienza in particolare che stiamo facendo adesso, perché è un traumatizzato come noi, la maggior parte di noi persone e noi società veniamo da un trauma, la grande crisi, è un trasmillenario come noi, è uno che ha fatto un percorso di benedizione, è uno che cambia la sua idea di Dio, e sì, pensa che lui voleva al massimo, nella vecchia idea di Dio arrivava ad allontanare Maria senza lapidarlo, senza parlare di lei agli altri, mentre si trasforma, è uno che scopre che la realtà è costituita da invisibile e visibile, che è quello che io mi auguro la nostra civiltà riscopre. Noi abbiamo, è certo, ma il sogno come elemento sostanziale, non come elemento diciamo così da favola dei bambini, o da psicanalisi freudiana, ma come elemento di capacità di far entrare l'invisibile dentro di sé, è un migrante in andata e in ritorno, infatti dico sempre che i nostri politici dovrebbero leggerlo, qual è la politica per i migranti? Accoglierli e aiutarli a tornare a casa, questa è la vera politica per i migranti che va fatta e Giuseppe ce la insegna, è stato accolto dagli egiziani, mica dagli ebrei ed è tornato nel suo paese e tanti anni dopo, non crea le condizioni per tornare. E poi ha questo che io trovo in questo periodo in cui si parla in modo così sconnesso di sessualità, di gender, che è tutto uguale, questo rapporto tra Giuseppe e Maria lo trovo veramente meraviglioso, lo dico da marito, io di mia moglie ho capito veramente poco dopo 28 anni di vita, mia moglie resta un grande mistero, ho trovato grande consolazione in Giuseppe, penso che abbia Giuseppe fino alla fine, abbia capito veramente poco di Maria e quindi l'ho trovato una grande figura moderna, poi questa idea che non dice una parola, eppure agisce nel momento opportuno, c'è sempre. Mi piace molto il fatto che hai ritrovato l'eco di un'educazione paterna nelle parole di Gesù. È così, se ci pensi noi diciamo vero uomo e vero Dio, quindi la parte di vero uomo l'avrà presa da qualcuno, il rispetto che ha per le donne da chi l'ha preso? L'ha preso dal papà. La capacità di cambiare idea, quante volte Gesù cambia idea, soprattutto quando sono le donne a stimolarlo o a chiedergli delle cose, pensa la donna che gli chiede di intervenire sulla fila, dice che non è venuto per i cagnolini, invece lei insiste, lui cambia idea, questa capacità di Gesù di cambiare idea, da chi l'ha preso? È Giuseppe che cambia idea, se Giuseppe non cambiava idea non sarebbe avuto la storia della salvezza. E' questo raccontare di Gesù delle cose della vita, sa tanto di un bambino che col suo papà a partire dalla prima viaggio girava, il papà gli raccontava delle cose che succedevano in giro, nelle parabole c'è un riferimento alla vita quotidiana. Gli avrà insegnato anche a cucinare il pesce? Gli avrà cucinato anche a cucinare, assolutamente, ma anche ad apprezzare a stare a tavola con gli amici, Nazareth è questa roba bellissima. Cosa vuol dire essere padre, Gianni Dotti? Perché questo soprattutto è il segno di Giuseppe. Fare un percorso, un pellegrinaggio fatto di domande interiori, ma anche di azioni esteriori per rendersi degni del figlio che hai messo al mondo. Sapere che l'essere padre è una sfida, non è un dato di fatto, non è che il giorno che hai messo al mondo un bambino e tu sei a posto e no, lì comincia il tuo viaggio di padre e credo che sia un grandissimo regalo essere un papà, biologico, non biologico. C'è il giorno che tu accogli, che dentro di te misteriosamente accogli un'altra vita e tu ti trasformi in quel giorno e tu diventi papà. Mi regali una musica? Sì. Una canzone o una musica che ti è particolarmente cara o che ti racconta adesso? Io direi laudato sì di Branduardi che ha scritto, quando ha scritto l'infinitamente piccolo, ricordando San Francesco. Questo è un grazie che viene prima delle richieste nei confronti del Padre Eterno. È proprio così. Grazie, grazie a te. A te solo buon Signore si confanno gloria e onore, a te ogni laudet benedizione, a te solo si confanno che l'Altissimo tu sei e null'uomo degno è te mentovare. Sì, laudato mio Signore con le tue creature, specialmente fra tesoro e la sua luce, tu ci illumini di lui, che bellezza e splendore, di te Altissimo Signore porta il segno. Grazie a te.